Termina tra 1 la gara del campionato di promozione tra Dormelletto e Meni a favore dei padroni di casa. Andiamo a vedere le azioni che hanno caratterizzato i 90 minuti della partita. La prima occasione arriva alla decimo per i padroni di casa con Parachini che in spaccato mette alto un tiro in diagonale. Al quindicesimo il vantaggio del Dormelletto, errore di Chiaverini che scivola al momento del rinvio e non ha problemi a porta vuota sacco a mettere la palla in rete. Ci prova Lomenia due volte, prima al diciottesimo con Perini che prova un tiro dalla distanza che però termina a lato. E poi con il ventitreesimo con un calcio di punizione di Puzzello che però come si dice in questi casi non scende la palla, non trova lo specchio della porta. Al trentatresimo arriva il raddoppio del Dormelletto con Tatti in aria di Accomazzo su sacco, viene concesso il calcio di rigore. Fagnoni realizza con il piattone, Chiaverini è sulla traiettoria ma il tiro è ben angolato e finisce in rete. Al trentanovesimo ci prova Lomenia con una conclusione di Capitan Perini che viene bloccata dal portiere del Dormelletto. Sì, vero, arriva il terzo gol sul finale del primo tempo. Calcio d'angolo di Parachini, stacco vincente di sacco, commette la palla in rete per il 3-0. Punteggio con cui termina la prima frazione di gara. Nella ripresa dopo otto minuti ci prova Erbetta per Lomenia ma il suo tiro non trova la porta. Bella trama del Dormelletto al quattordicesimo con il cross di Mostoni. Arriva Tosatta a impattare la palla al volo ma la sfera stessa finisce sull'esterno della rete. Al diciassettesimo errore in disimpegno in fase di baldo, in fase difensiva, però con il palonetto sacco non riesce a superare Chiaverini. Al diciannovesimo c'è un calcio di rigore per Lomenia che viene concesso per un fallo di gara su Barbieri. Dal dischetto si presenta Puzzello che spiazza il portiere, mette in rete la palla del 3-1. Le ultime due occasioni sono una per parte al ventunesimo. Ci prova sacco, il suo tiro viene parato da Chiaverini. L'ultima occasione una staffilata da fuori di Erbetta che colpisce in pieno la traversa. Termina così 3-1 per il Dormelletto, la gara del campionato di promozione tra Dormelletto e Lomenia.